Musica Amici di Italian Fish TV, buongiorno, ci troviamo al campo di gara di Laterina in Arno ad Arezzo dove sabato e domenica si svolgerà la terza e la quarta prova del campionato italiano di pesca a ledgering, tecnica feeder. Siamo qua con i componenti della lenza emiliana dove oggi stiamo testando prodotti nuovi appena arrivati, pasture, canne e attrezzatura varia. Andiamo a sentire più di specifico da loro quello che singolarmente stanno testando. Il primo componente della lenza emiliana che andiamo a conoscere, che io conosco già da tantissimo tempo perché ci siamo cimentati insieme nella pesca al colpo tanti anni, tanti anni ci siamo cimentati insieme, è Manuel Marchese che è componente della nazionale italiana di pesca feeder che quest'anno ha ottenuto un risultato straordinario in Belgio, passandosi al quinto posto per l'Italia e per questi giovani cavalieri della pesca è stata una bella esperienza e sono convinto che negli anni prossimi poi ci faremo sentire ancora meglio. Allora Manuel, noi siamo qua per provare innanzitutto il campo di gara perché sabato e domenica abbiamo la competizione. Abbiamo preso con noi anche un pochino di attrezzatura per cominciare a vedere quello che è arrivato di nuovo ultimamente alla tubettina. Io inizierei dalle pasture perché penso che sia la cosa più importante per il campo di gara. Preciso che la tecnica a leggering, feeder in gara è totalmente diversa dalla tecnica che si usa come pesca sportiva nei carpodromi o diciamo per quando si va a pescare da soli. Ci sono delle regole da rispettare per rendere la competizione più... determinate montature da dover appunto rispettare, delle lunghezze di terminali da dover rispettare e in base a questo dobbiamo appunto noi pescatori facendo gare di un certo livello dobbiamo adeguarci a questo tipo di regolamenti. Il regolamento internazionale prevede che ci sia una montatura che deve essere scorrevole, il piombo può essere agganciato direttamente alla lenza madre o subito vicino o come in questo caso con un piccolo paternoster di 10 cm ma rigorosamente deve essere scorrevole. Certo. Invece, Manuel ti interrompo un attimo, invece quando si tende a pescare per conto proprio o usare tecniche tipo metodo, ci tende a bloccare tutto. A bloccare tutto, mettere addirittura l'amo all'interno del pasturatore per rendere la cosa ancora più facile, però in gara per avere un po' di competizione è giusto dare anche delle chance al pesce. Il regolamento prevede che dal fondo del pasturatore non ci siano meno di 50 cm di terminale. Io in questo caso sto utilizzando un terminale da 50 cm che è questo perché lo avvolgo su dei miei porta lenzo da 25, in più ho una brillatura di altri 8-10 cm perciò io sono abbondantemente in regola. Esatto. Perfetto. L'attacco vertigo è un attacco a quattro vie, però ha la caratteristica di essere intercambiabile perché ha un taglio a 45 gradi posto a metà che consente al filo di entrare. Ecco, possiamo spiegare perché a volte il pasturatore è attaccato più al... Allora, secondo il mio modesto punto di vista, un pasturatore attaccato molto vicino alla lenza madre va bene su tanto pesce in attività, su delle mangiate franche, su delle mangiate proprio come in questo caso, qui ci dovrebbero essere delle carpe, dei carassi che mangiano, perciò secondo me domenica una lenza così può essere veramente ottimale. Chiaramente se la pescata diventa un po' più difficile, il pesce un po' più svogliato o meno, allungando il paternoster si ha quell'effetto di morbidezza, si rende ancora più morbida la nostra lenza. Certo, certo. Io in questo caso usando una pastura, la Dynamic Feeder che è una pastura che tende a disgregare molto. Io ho anche notato nelle mie poche esperienze che la pastura va secondo me in umidita in maniera diversa rispetto alla pesca al colpo. Assolutamente sì, bisogna, se uno viene dalla pesca al colpo, io dico sempre, bisogna stare indietro con l'acqua, bisogna tenerla più asciutta, bisogna, anche perché appunto congolvandola in un pasturatore c'è già un involucro che la tiene e la riesce a portare sul fondo. Anche perché se è troppo bagnata all'interno del pasturatore poi fa fatica a lavorare e addirittura ad uscire, addirittura fa da tappo, proprio non esce, non esce nemmeno sbattendo il pasturatore nell'acqua. Perciò sono quelle piccole dinamiche, quelle piccole meccaniche che uno poi chiaramente deve provare, valutare e vedere. Volevo chiederti, allora oggi, sai passando in magazzino, prima abbiamo preso che sono appena arrivate nella nuova serie delle canne, diciamo di top di gamma, del prossimo anno, che sono le Next Generation, che sono delle canne molto molto belle, fatte con un carbonio di alta qualità e personalmente è un po' che le sto usando perché io ho avuto la fortuna di averle in anteprima e devo dire che mi sto innamorando ogni volta di più. Sono delle canne fatte appunto con degli anelli molto larghi, che permettono di scorrere molto bene al filo, portano delle cime, come in questo caso che è la 360 grammi, portano delle cime che sono o in carbonio pieno come quella che sto utilizzando in questo momento da un'oncia e mezza, oppure ci sono delle cime in carbonio tubolare riportate di carbonio pieno che sono ancora più sensibili, oppure delle cime addirittura completamente tubolari che vanno molto bene in corrente per vedere bene le starate, la mangiata in starata. Abbiamo fatto queste canne in collaborazione naturalmente con Manuel e tutti i componenti della lenza emiliana, più Mattias che è il nostro uomo immagine per il mercato tedesco, più Attila che proprio quest'anno ha vinto il campionato del mondo individuale in Belgio. Sono tre canne, 360, 390 e 420 di diversa potenza, tutte le vette che sono corredate a parte sono intercambiabili in tutte e tre le canne, come ha detto giustamente Manuel abbiamo diversi tipi di potenza a secondo se si usa l'hollo tip, a secondo se si usa il vettino riportato, a secondo se si usa il vettino pieno o il vettino in fibra di vetro. Sono state testate, riprovate, cambiate e penso proprio abbiamo raggiunto il top. Per quanto riguarda la pastura, naturalmente noi speriamo molto dell'esperienza che ci siamo fatti durante il periodo delle acque interne e l'esperienza di Van den Heide. Van den Heide è una ditta del nord Europa che produce pasture sia per la pesca al colpo che è la pesca feeder, ha tantissimi testimonial che testano giornalmente tutti i nuovi prodotti e ultimamente abbiamo importato proprio per questo boom che sta avendo questa tipologia di tecnica in Italia anche a livello agonistico delle pasture specifiche solo ed esclusivamente per il feeder. Naturalmente la pastura è sempre una cosa soggettiva, non esiste la pastura che fa i miracoli, l'importante è che la pastura sia sempre di ingredienti e di meccanica giusta, che abbia un'agrolaminatia adatta per il tipo di pesca che si fa e l'esperienza Tubertini e Van den Heide penso che sia unica in questo campo. Io è anni che le adopero e mi sono sempre trovato bene, fortunatamente i pesci ce li abbiamo sempre trovati sopra, perciò vuol dire che anche loro gradiscono insomma. Sì, sono pesci poi derivati dalle pasture da tanti anni di esperienza che vengono sia dalla pesca al colpo che dal feeder stesso. Io oggi nello specifico sto testando per la prima volta in questo campo di gara, l'ho già provata in altri posti, la dynamic feeder che è una pastura tendenzialmente scura dove secondo il mio avviso c'è parecchia canapa, cioè secondo me è una pastura proprio da pesci grossi. Dove l'ho provata in altri posti delle carpe ce le ho prese, anche se qui tendenzialmente tendono ad usare le classiche pasture gialle da carpe carassi, oggi la volevamo testare per vedere se può funzionare anche qui. Io vedo che c'è, almeno dalle prove fatte fino adesso, c'è questo problema del disturbo di questi pesci gattini che il colore della pastura può fare veramente la differenza. Grazie a tutti! Allora, vediamo nello specifico qual è la tecnica di lancio per quando si pesca feeder. è una tecnica totalmente diversa dalla pesca a match con l'inglese o con la collo divisa, sono tecniche di lancio totalmente diverse e come si mette soprattutto la canna in pesca, perché qui non si intende di mettere il galleggiante in pesca, qui devi mettere la canna in pesca. Emanuele, facciamo vedere! Una cosa fondamentale nella nostra pesca è prendersi un punto di riferimento, che sono andato a costa, chiaramente, e poi trovare la linea di pesca, facendo dei lanci preventivi per sondare un po' e cercare di capire com'è il fondo, dove intendiamo pescare, poi a quel punto noi clippiamo il mulinello, perciò siamo sicuri che in lunghezza non potremo mai andare oltre e chiaramente la direzionalità dobbiamo darla noi con il lancio, avendo appunto questo punto preso di riferimento. E l'abilità appunto della pesca feeder è quella di poter dire, di poter lanciare sempre nel nostro supporto. È la nostra forza, perché noi ogni lancio portiamo in acqua un quantitativo di pastura. Più lanci riusciamo a fare nella stessa zona, più è facile radunarsi dai pesci. Esatto, il lancio è abbastanza teso e poi si posiziona sul portacanne quando il pasturatore arriva sul fondo. Si capisce che il pasturatore arriva sul fondo perché la cima si sletta. Nella pesca feeder bisogna sempre guardare in faccia al vento, bisogna soffrire, non si può metterlo, non si può girare con spada al vento. Grazie a tutti. 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 sembra? Una canna che mi permette di spingere anche abbastanza, nello stesso tempo è una canna light da usare principalmente con dei finali non troppo grossi, il 10, il 12, una canna molto divertente col pesce, un'azione bella parabolica e poi il suo nervo ce l'ha, quindi riesce ad essere anche preciso nella direzione del lancio, no, mi piace, una bella canna, 10. Meno male, sai, a volte si lavora anche per le soddisfazioni. Quello che ho notato, soprattutto fra Stefano e Manuel, tendono a usare tipi di mulinelli che noi abbiamo progettato insieme alla Riobi, che sono mulinelli che hanno delle bobine sovradimensionate rispetto al corpo, questo per ottenere in fase di recupero del peso e anche in fase di recupero del feeder vuoto, di fare il meno sforzo possibile e avere nella canna un mulinello di peso giusto, non di peso troppo eccessivo. Stefano sta usando, mi sembra, un Kobe 6.500. Io sono partito dei mulinelli a bobine molto larghe e questo secondo me per questo tipo di pesca che facciamo è eccezionale. Non è un, diciamo, un giuglielino di tecnica tipo il vertigo, però diciamo che questo, la sua tecnologia ce l'ha e è un mulinello, diciamo, un po' più, come lo possiamo definire, un po' più tranquillo nel senso di recupero più lento, però con il pesce attaccato, diciamo che gira bene e ti dà una sensazione di sicurezza, insomma, è un bel mulinello. Sì, i mulinelli tipo vertigo, tipo Kobe, tipo Artica, sono mulinelli nati perché? Perché noi vogliamo una grande capacità di recupero e allo stesso tempo una grande potenza. Per ottenere questo l'unica maniera è aumentare il rotore del mulinello e automaticamente aumentare il diametro della bobina. Questo ci consente a parità di potenza e a parità di recupero di recuperare più filo all'interno della bobina. È una caratteristica che ci contraddistingue sul mercato e dobbiamo dire che sia per la pesca in mare, che per la pesca feeder, che per la pesca bolognese o all'inglese sono mulinelli molto affidabili e che tolgono tutte quelle problematiche che un normale mulinello di misura, diciamo così standard, potrebbe dare in queste tipologie di pesca. Grazie a tutti! 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 tutti i nostri cavalli di battaglia sono qua per fare la chiusura finale ringraziamo Italia Fisi TV che ci ha dato la possibilità di fare questo servizio su questa nuova tecnica un saluto a tutti e la prossima volta qualche carpo, qualche barbo nelle tecniche più catturanti per il figlio ciao a tutti e alla prossima Ciao a tutti